Lo aveva annunciato nei giorni scorsi e ora dalle parole passa ai fatti. Il sindaco di Arezzo Giuseppe Fanfani è sempre più deciso. Il comune andrà allo scontro frontale sul tema del consorzio di bonifica. Tra le ipotesi in campo, quella di chiedere lo scioglimento del consorzio. Ma non solo. C'è anche un'altra strada, presentare una lista alle elezioni per i nuovi organi consortili. Alle consultazioni in programma il 30 novembre possono partecipare tutti coloro che pagano il contributo di bonifica. Una lista sponsorizzata da Fanfani che proponga una rivoluzione all'interno del consorzio, magari appoggiata da provincia e associazioni, potrebbe sbaragliare la concorrenza. Pagliamo circa 100 mila euro all'anno, aveva evidenziato il primo cittadino nei giorni scorsi. Sto valutando insieme agli uffici la possibilità di far assumere all'amministrazione un'iniziativa giudiziaria con la quale anche il comune si opponga. Le nuove iniziative verranno presentate dallo stesso sindaco domani. La provincia di Arezzo per bocca del presidente Roberto Vasai aveva dato la propria disponibilità ad aderire a prese di posizione eclatanti. Se il comune si opporrà al pagamento, se riuscirà a trovare dei meccanismi per non pagare, li seguiremo, aveva detto Vasai. Di sicuro nei prossimi giorni su questo argomento ci confronteremo con il comune per vedere il da farsi.